Ben trovati, naturalmente cosa faccio? Dove mi trovo? Ebbene, sono qui naturalmente in un punto importante Di negozi che ho trovato all'inizio Ce l'abbiamo la fantastica Sconto con gli orologi, fantastico Poi ce l'abbiamo qui sul molto veli 40% del sconto Di Anastasia Proprio quello lì, ok perfetto Allora mi raccomando, cari amici, venite, venite L'uva buonissima, ebbene sì, l'uva affiancata con del buon vino Perché naturalmente l'invito, signori, è a venire qui presso il nostro Come vedete alle mie spalle Abbiamo qui il Bintangis Bar, Wine Bar Quindi una location dove poter fussare del buon vino, del buon vino, signori Naturalmente sono in compagnia di Ramona Ciao Ramona, ciao Ramona, lei viene dalla Romagna Quindi Ramona ci dice che praticamente possiamo venire qui E fare un test, provare, provare il vino Naturalmente con diversi vini, sono messi lì a vostra disposizione Quindi venite, li assaggiate, se non conoscete il vino, li volete provare Così poi decidete che vino bere Ok, quindi venite qui, non vi preoccupate Salve ragazzi, eccomi qua, mi trovo in un posto, una cosa spettacolare Qualcosa mai visto prima a bordo di una nave da crociera Ice skating, pattinaggio sul ghiaccio Eccomi, sono naturalmente, come vi dicevo amici mie Una cosa mai vista prima a bordo di una nave da crociera Ok, salve ragazzi, siamo allo studio B Pattinaggio sul ghiaccio Come vedete, io ho bisogno di fare tante lezioni Ma non vi preoccupate che qui, al ponte numero 3 Naturalmente troverete uno staff professionale che vi accoglierà E un altro gruppo di artisti professionisti Di ballerini, ballerini sul ghiaccio Che vi presenteranno degli spettacoli fantastici Qui allo studio B E non solo, durante il giorno Potrete, voi che come me non sapete fare pattinaggio Venite qui, non preoccupatevi perché sarete istruiti Dai nostri ballerini, dai nostri maestri Insomma, certamente mi avrebbe fatto piacere Darvi un benvenuto sul ghiaccio Un po' più professionale Ma naturalmente, col mio sorriso cercherò di invitarvi Anche, ecco, vedete Io faccio bene a mantenermi perché non voglio fare Come ha fatto quel ragazzino Perché voglio essere pronto subito per darvi il benvenuto personalmente Per guidarvi all'interno di questa nave bellissima Soprattutto qui allo studio B Pattinaggio sul ghiaccio Ponte numero 3 Al centro della nave Ciao Casinò, naturalmente Esattamente Marco, ci dici qualcosa un po' quello che succede qui al Casinò Diamo delle informazioni Benvenuti a tutti qui al Casinò Sono un sacco di intrattenimenti vari Fra cui lezioni di gioco Tornei di Blackjack e di Texas Hold' Troverete sicuramente del personale che parla italiano A parte me, chiaramente Benissimo Senti Marco Ma per tutte le persone come me, per esempio Che hanno tentato una volta di giocare al Casinò E hanno perso tutto quello che avevano E hanno deciso di non ritentare più Ma insomma, li invitiamo comunque a tentare la fortuna Sempre Sì, i tavoli sono abbastanza piacevoli E comunque non sono Non si gioca in maniera troppo forte Quindi Quindi naturalmente anche per tutti Sì, e per tutti Per tutti Anche per quelli alle prime armi Che non sanno come giocare Sì, e poi troverete il personale Che vi spiega Tutto praticamente Tutto quello che chiedete Qualsiasi domanda Grazie Grazie Grazie